Epilatore della Odeline, molto ergonomico come vedete, diverso dai classici che si vendono nel mercato. Questa è la basetta che come al momento in cui viene appoggiato si illumina perché abbiamo due luci, due mini stilo che si inseriscono ma effettivamente servono solo per dare questo tocco di questa luce led ma non serve nient'altro. Questo momento è acceso, come vedete abbiamo diverse iconcine, queste sono la longevità del prodotto, ci dice che c'è più o meno un milione di luci puzzate, quindi durerebbe tantissimo. Premendo ogni volta sull'accensione abbiamo fino a 9, questa è l'intensità della luce puzzata, se invece premiamo sul tastino mode abbiamo le tre modalità che sono luce puzzata, questa è luce puzzata, rinnovamento pelle, rimozione dell'acne, quindi SR, un sistema di raffreddamento uniforme che funziona in maniera uniforme su tutta la zona trattata e ogni volta che noi andiamo ad appoggiare il prodotto premiamo appunto sulla luce, come vedete emette la luce puzzata, possiamo anche scegliere e in questo caso ci dà appunto che abbiamo fatto, abbiamo premuto per una volta e quello rimanente. In realtà possiamo scegliere anche sia la modalità manuale, quindi premendo ogni singola volta, come vedete se noi non appoggiamo bene il prodotto non funziona, il prodotto deve essere appoggiato perfettamente in posizione verticale sulla pelle e allora abbiamo l'impulso, altrimenti no. Possiamo scegliere o premendo sempre ogni volta questo pozzante oppure la modalità automatica e ci dice appunto che emetterà un impulso ogni 0,9 secondi. Il botto è molto molto bello ergonomico, mi raccomando preparate sempre la pelle, usate sempre gli occhialini e provatelo sempre con una intensità 1 all'inizio per vedere se avete delle zone che sono evitabili, soprattutto in zone un po' più delicate. Per il resto è un prodotto che sembra di buona fattura, quindi magari lo farò provare a qualche amica e vi dirò anche come si è trovata.